Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, la cella numero uno, i luoghi che hanno visto la presenza del nostro caro Padre Pio da Pietrelcina, per raccontarvi quello che accade a Giovanna Russo. Giovanna si preparava per andare da Padre Pio e partecipare alla Santa Messa e passò a salutare la mamma che era malata di cuore. Quel giorno la mamma ebbe una forte crisi e stava veramente male. Lei voleva fermarsi a casa con la mamma, tenerle compagnia, ma la mamma le disse vai in convento immediatamente, vai da Padre Pio, partecipa alla sua messa e soprattutto digli di pregare per me. Un po' titubante Giovanna subito corse verso il convento, salì qui ai cappuccini. Padre Pio stava confessando nella chiesetta antica le donne, chiese, riuscì a passare e soprattutto per dire qualcosa a Padre Pio. Le permisero di superare un po' di persone, ma soltanto per chiedere a Padre Pio. Padre, mia mamma mi ha chiesto di venire da lei e chiedere di pregare per lei, perché sta veramente male. E Padre Pio disse, ma tu vedi sempre tutto nero? Vuoi vedere che tua mamma adesso sta parlando con le sue amiche? Giovanna rimase un po' così attonita, soprattutto per la battuta e il sorriso di Padre Pio. Infatti lei continuò a pregare, si mise in un angolo della chiesa, partecipò alla celebrazione eucaristica. La vide un frate, un certo padre Luciano De Paola da Capracotta, che in quel momento stava organizzando un po' per l'ordine, per far passare le persone, quindi partecipare alla messa e allo stesso tempo anche per far confessare le persone, in questo caso le donne da Padre Pio. La vide, la conosceva, la vide un po' così, ma le chiese che cosa hai? Mia mamma sta male? Le raccontò anche la risposta di Padre Pio. Ma come? Proprio tu non credi a Padre Pio? Al termine del suo servizio, Padre Luciano si offrì proprio di riaccompagnare Giovanna a casa e nel momento in cui entrarono i due in casa, videro la mamma in lieta conversazione con le sue amiche. Grazie a tutti.